La commissione d'inchiesta è tornata sul luogo del disastro ambientale. A bussi sul tirino i rappresentanti della politica abruzzese hanno passeggiato attraverso la discarica più grande d'Europa. Per quanto riguarda la bonifica del sito, si è ancora in alto mare. Dopo oltre un secolo di industrializzazione e relativo inquinamento, la commissione sollecita lo Stato ad accelerare i tempi. Abbiamo visto lo stabilimento attivo verificando insieme all'Arta la conduzione di quei siti altrettanto inquinati che per fortuna vengono gestiti in condizioni di sicurezza possibile pur persistendo elementi di esposizione al rischio. Più complessivamente la consapevolezza dell'immanenza, persistenza, attualità del rischio all'ambiente della salute è rafforzata e con la conseguenza che non si può ulteriormente traccheggiare, bisogna decidere. Il nome di bussi è ormai indelebilmente legato al disastro ambientale. Il comune ha dovuto acquisire le discariche cosiddette 2A e 2B, ma il fardello della bonifica non peserà sulle spalle del piccolo centro in provincia di Pescara. Quest'area ha un finanziamento dal 2010 di 50 milioni di euro, un finanziamento finalizzato alla bonifica per la reindustrializzazione. A febbraio del 2018, a seguito di un progetto, è stata bandita una gara dal Ministero dell'Ambiente, cioè le istituzioni. La gara è stata aggiudicata in modo definitivo. Il Ministero dell'Ambiente, in qualità di committente della gara, avrebbe dovuto firmare entro 60 giorni, come prevede la legge, il contratto con la ditta che si è aggiudicata la gara e dare inizio immediato alle bonifiche. Stranamente, sono passati due anni ormai, il Ministero ancora non firma il contratto. Il risultato è che qui c'è un'area inguinata che continua a inguinare. Nel frattempo, centinaia di migliaia di abruzzesi si sono serviti inconsapevolmente di acqua contaminata. Nelle acque destinate al consumo umano sono state identificate 32 sostanze nocive, piombo e mercurio in primis. Nel rapporto Sentieri, pubblicato lo scorso anno, si sono affrontate le malattie e l'ospedalizzazione di oltre 85 mila abitanti degli 11 comuni compresi nel sito, evidenziando un eccesso rispetto al resto della regione di specifiche patologie riconducibili ai contaminanti nelle acque potabili. Nella società chimica Bussi S.p.A., in due locali sono stati individuati livelli di mercurio allarmanti, per cui si è dovuto limitare il tempo di lavoro degli operai. Siamo alle discariche 2A e 2B di Bussi. Sotto il terreno, sopra il quale stiamo camminando, sono stipate tonnellate di rifiuti chimici. Come potete vedere, questo è il capping, il telo che impedirebbe alla pioggia di attraversare i rifiuti e poi raggiungere la falda acquifera contaminandola, ma il telo, come vedete, è squarciato in diversi punti e la discarica è scoperchiata. Questa invece è la discarica Tremonti, che è costeggiata dal fiume Tirino, uno degli affluenti maggiori del fiume Pescara, tant'è che nell'area metropolitana di Pescara l'incidenza di tumori è più alta che nel resto della regione. Finora il Ministero dell'Ambiente ha temporeggiato per l'avvio dei lavori di bonifica, anche laddove il bando per i lavori di bonifica è stato vinto. Tant'è che l'azienda che ha vinto il bando potrebbe presto chiedere i danni allo Stato per non aver fatto iniziare presto i lavori. E questo perché nonostante vi sia una legge ad hoc per bussi che permetterebbe allo Stato di iniziare i lavori e poi, caso mai, farsi risarcire dall'azienda ritenuta responsabile dell'inquinamento, ha temporeggiato fino al 5 marzo prossimo, in cui il Consiglio di Stato dovrà decidersi sul ricorso presentato da Edison, che rifiuta di essere riconosciuta come responsabile. Se anche il Consiglio di Stato, come il Tarabruzzo, dovesse respingere il ricorso, Edison dovrà pagare interamente la bonifica. Per i lavori complessivi della bonifica di tutta la zona di bussi occorreranno circa 300-400 milioni.